In questi sabato di dicembre le funicolari non hanno mai effettuato il prolungamento dell'orario, domani sera ci dovrebbero essere le corse non stop, siamo sicuri che ci saranno, la gente potrà effettivamente arrivare con i mezzi? C'è quel brocardo sportivo al quale mi rivolgo in questi casi, rigore quando l'arbitro fischia, c'è un accordo firmato, questo è il paese in cui si firmano accordi e poi non si rispettano, io ho la fiducia di ritenere che domani sera non accada nulla di imponderabile, quindi dalle indicazioni che mi sono state date c'è fiducia, però c'è anche grande amarezza da parte mia e di tutti i napoletani per questa condotta che ovviamente non rimarrà priva di conseguenze, questo è ben chiaro, sia nei provvedimenti che saranno adottati ma anche nell'organizzazione futura dell'azienda. Ci auguriamo che il 31 anche per le tragedie di ordine pubblico non ci siano condotte irresponsabili, io esprimo fiducia come sempre, la fiducia deve essere ben ripagata, io mi auguro che domani almeno ci sia un comportamento responsabile, poi il 2020 comincerà con una musica diversa rispetto a come è finito, questo vale per i trasporti ma anche per altro.